Sicuramente il taser è uno strumento utile perché evita l'utilizzo della pistola, permette di essere anche un deterrente nei confronti del criminale che sta commettendo qualche reato e ritengo che le forze dell'ordine, in particolar modo la polizia locale sebbene addestrata, possa essere appunto uno strumento che possa effettivamente andare a contrastare quella che è la micro criminalità nel nostro territorio. Il decreto sicurezza, già ribattezzato decreto Salvini, varato dal Consiglio dei Ministri, non è ancora operativo ed è suscettibile di cambiamenti, ma l'introduzione in via sperimentale dell'uso dei taser, le pistole elettriche, anche per la polizia municipale dei comuni sopra i 100.000 abitanti, interessa il primo cittadino di Cittadella. Lo strumento, già utilizzato dalle forze dell'ordine in 12 città italiane, tra cui Padova, sarebbe utile, secondo Piero Bon, per difendere i cittadini dalla micro criminalità. Battaglia che gli enti locali ora fanno con le telecamere, ma che richiede più sinergia tra le istituzioni. È assurdo che un'amministrazione comunale faccia degli acquisti, in particolare nel settore tecnologico, e questi acquisti rimangono solo ad utilizzo della polizia municipale e non vengono condivisi con le altre forze dell'ordine. Il distretto di polizia locale PD1A, che comprende 8 comuni della zona del Cittadellese, si doterà a breve di nuove telecamere. Avere una videosorveglianza che ci permette, con un calco algoritmico, di avere solo in base al colore del vestito, in due minuti, questo sistema permette di tracciare la posizione del soggetto. Siamo un comune apripista, pilota in questa realtà di videosorveglianza integrata.